e video di Marche buongiorno 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 grazie per me grazie Sara Donini e vi terebbe che volevo fare pari della Federazione Bardotella di Teatro Populare? grazie che devi apprezzare? non riapporto lo Claspi chiede un tocco prei di memoria dei servizi dei prezzi a modo taccodemai che cugni un po' la pièce ma ok si viene un po' spero che gliela fai si viene un po' tranquillo non 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 scusate vorrei mi chiedevi che c'è un po' di iuda che vi te viene su? perdone un po' di iuda ripeto con me con la pièce e io è il franzo perciò ok perdone spero gliela fai perché si viene un po' e ne portano a biancine a prestare Faccio i miei paesi, tutti fanno bello a recitare e poi è finito se non ci rende un po'. No! 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 Sì, mi ripeto, mi prendi un po' e mi prendi due anni. Torni a durare, già. Bene. Come? Spera io la fai perché se sempre è molto male, mi prendo la mia tenea, ma questa è una... No! Pazzo, te lo dico padre che ti fai una bella recitare e poi è finito se non c'è un po' di rezzina. Necessità, Sara. Allora, mi prendo il mio po' e non c'è... Allora, al fine. Concentrazione. Ma ma? Vieni in esecutazione? Come? Ma no, ma torna! Ma ha detto, lo avete scusato. Scusate, me lo aiuto. Mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo. Ma la concentrazione è importante. Mi chiedo di domanda e... La concentrazione è importante. Qui ti parla di rinzare tutti i momenti, eh? Scusate, andate in dove? Prende, presto. Fa bene, fa bene. Spero io la fai, perché... Se cerchiamo su noi, mi portiamo a vedere l'opera prestata. Non è... Stavolta, io l'ho detto, il franbello è la recitazione. E arriviamo a finire il tuo seno di rinzare un po'. Sarà la recitazione, ma per il tuo concio. Vado, arriviamo. No, ma... L'impero non si è tutta, eh? Oh! Madame? Pampaola? Eh... Sarà l'esuità. Alla lì, davanti nel tuo concio. Vieni, sembri andare. Cosa, cosa sembri andare? Ehm... 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 E che... E va in poco di concentrazione, vorrei che pensasse che non sono sempre mia prendereci te. Ehm... 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 E poi puoi prendere una notte di te? Magari una sorella? Vuoi prendere la mia? Oh no, è buona! Oh no! Ah! Ehm... 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 Andando in secolazione, Non è possibile andare da d'amune paese. Scusate? Ma è piuttosto... Perfetto... Quindi un po' e... Andando. Ehm... Ehm... è un po' di... Ehm... Ah, ma a più di... Ehm... ma lei viene più male a me e io perchè io ho pagato più le d'or vuoi più di poi non sai dire se c'è la mamma tutto, vuole per farlo domani in davanti dai, io lo fai faremo oi lo sai ma porta parmi la madama sa che è in classe e partiamo prestagno ma non torniamo a fare scusami, torniamo a fare, calmati sicuro a me vediamo va bene in giù spero io la fai perchè si viene in giù e le portiamo a me lo teniamo a prestare allora io faccio i miei patetti e ti prendo la recitazione e no, a ragazza minuto se la madama non mi rende pa mi stupendo Sara, allora va bene il tuo colcio mamma, mi prendo la recitazione ah sei qua di Pampa Olla magari pensi che sei per me e tra i te sei qua mi ha comesso a prendere la butta di magari è naturale orla se lo位 osipi e se volete i miei pat anni non può regolo oi non puoi X tappesino matem no 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 i i ragazzi ох non potrà ma ci sono No, 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 no. E tu devo ne ho poso, quindi un po', per prenderlo, prendetelo. Lo devo dire, lo devo dire, lo devo dire. Io non ho inizialmente, non ho bisogno di prendere la sua, ma non ho bisogno di prendere la sua. Concentrate. Spero che non ho fatto, se vengono solo, potremmo vedere questa... E io devo fare un po', per prenderlo, e poi, se la madama non lo prende... Sarà, lei non lo prende, non lo prende, non lo prende. D'accordo. Ma, l'entrazione non sei tutta? Ma sei pa' di pa' olla, magari pensi che sia sempre a me l'entrazione? Ma sei pa' di recita? Beh, l'entrazione non è naturale. Guarda, l'entrazione non è il suo. Se voglio troppo di cuore, non lo puoi aggiungere con il tocco blu. Oh, non è in altre partite, poi è in te. No, non è in te la prima parte. Andiamo con la seconda parte. Pardama? Sì, ma è reale. Non puoi andare bene per entrare nella federazione. Non ho fatto un altro consiglio. Sei capace. Guarda solo chi è. Secondo me. Puoi entrare per pensare che non lo prende. Ah! Magari, con l'entrazione pensi... Madame, non puoi rispondere. Pedabone, sicuramente. Ah, non è proprio pedabone. No? Uè, ma Nicola! Fa pagliere la riposta su lui. No! 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 Intrae di fare claspi. Ma non claspi, è funire le balle. Ah! Dov'è il frenè! No! Alla demografica, chito! Sì. 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 Ahia, passiamo alla prima stessa di Maggi. Buonanotte, Hachette. Abbiamo chiesto l'opale, che è la compagnie dei primi posti di Maggi. La terza stessa è la cabala di Hayas. A la seconda stessa, le Galetalei di Borgeselts. E alla prima stessa, come l'anno passato, le Viglio dei Votornens. Un grande battimento a Chet, ma soprattutto mettere un grande battimento a la cabala di Hayas, che è l'anno passato, è il primo anno che ha restituito, è la scuola di Maggi. Applausi. 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 E voilà. Applausi. 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 Perciò che conosciamo parla, a Cabala, le è il primo anno passato che sono salito di Siloparco, e per loro penso che le è il taglio di parte. e passare alla seconda classe che sono l'ogganza lei di Vincenzo qual è che ti hai a dire due parole? non so che abbiamo contente che le tante si servono a questa pagare perché cambiamo l'importante cerchere di mandare in avanti l'opatrice che non servono le occasioni grazie 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 a tutti e buona giornata. Grazie a tutti e buona giornata.